No, ti teni raccoperta dall'administro. Vedete se c'è qualcuno che vuol dire dire che è stato registrato? Non sempre tu che poi si incrazia e tu non è... No, vabbè. Ehm... Il cuore della lavanderia è macchina. Che vediamo di registrarsi. Io in effetti sto registrando adesso le immagini, però... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, Renzo, quando dicevi della trasmissione che sono a te quattro, sono non rediti. Prenditi la scena. Ma è solo la scena. Ma sì, mi fa... Guarda, Renzo, farò uno sforzo. Ma questo fa 18, questo fa 18, questo fa 18, questo fa 18, questo ti scarsa in buio. Ma questo li causa bugia. Sì, perché l'hai messo lato? Perché l'hai messo lato? Perché l'hai messo lato? No, per un mese. Sì, sì, adesso a te non piace l'armonia. Sono parte...